Buongiorno, buon mercoledì 21 febbraio. Ben trovati con l'edicola di 696 TV, andiamo subito a consultare la rassegna dei giornali nazionali e regionali. Partiamo da Repubblica, l'apertura è dedicata ovviamente al voto, ci avviciniamo al voto delle politiche. Voto larghe intese sempre più lontane. Vediamo il sottotitolo, il catenaccio a che cosa si riferisce, i debiti dei ministri PD su un'intesa con Forza Italia. Non ci conviene fare l'accordo solo con Renzi. L'ex cavaliere intanto vuole reclutare gli espulsi dei grillini e l'inchiesta dei rifiuti in campagna fa tremare sempre di più persone sempre più vicine al governatore. Si dimette anche l'altro manager, poi vedremo nello specifico di cosa si tratta il famoso video della valigetta. E poi ancora parte alta, giorno di guerra, Erdogan Hassan, la Siria fa paura al mondo, vedete questa foto di questo bambino tra sangue e violenza. A piede intanto Palermo legato e picchiato, il segretario di Forza Nuova. Siamo pronti alla vendetta, quindi l'aggressione nel centro città e poi piccoli quadretti a piede. Il nuovo colonialismo, dalle dighe ai libri, la Cina conquista l'Africa costruendo le biblioteche. Droni antimigranti protestano i paesi al confine. Svizzero, andiamo avanti, guardiamo il primo piano di Repubblica, la guerra appunto, Assad contro Erdogan. La Siria è atti nel mondo con il fiato sospeso, le truppe di Damasco con i kurdi di Afrin ed Ankara apre il fuoco. I jet bombardano Guta, 250 uccisi e ci sono molti bimbi. Iran alle porte, Israele si scopre fragile, il drone inviato da Teheran, il caccia abbattuto. A Tel Aviv intanto si susseguono le riunioni dell'intelligence, quindi una situazione davvero delicatissima. Marco, Eddie e gli altri foreign fighters italiani in guerra contro i turchi. Vediamo le foto di questi ragazzi reclutati per la guerra e poi ancora voto larghe intese, sempre più lontane. Andiamo avanti, guardiamo ancora, sfogliamo insieme la Repubblica, guardiamo le altre pagine. Grasso gioca la carta Corbin Maleo è deluso dal leader. Incontro a Londra con il leader laburista, ma rumore per ai suoi, per una campagna mai decollata. Voce di scissione tra PD ed SI, versare alla minoranza DEM, ricostruiamo ora il centro-sinistra. Scalfari intanto, dice il PD, pugnalò Enrico Letta, Renzi intanto dice dissento. Ma intanto adesso il caso è quello dei rifiuti in campagna, il terzo video di fanpage fa dimettere il direttore della SMA, che smaltisce appunto i fanghi e la terza testa che salta è quella di iacolare, ma sentiamo il servizio. Sembra di vedere Gomorra, ma a differenza della serie qui devono vincere i buoni. Lo scrive il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio su Facebook dopo aver visto il terzo video dell'inchiesta su rifiuti e tangenti pubblicato da fanpage. Non devono passarla liscia, assassini della mia gente, questi partiti si comportano peggio dei camorristi, conclude il candidato premier dei 5 Stelle. Intanto De Luca annuncia di aver querelato il grillino per le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi. E a stretto giro il segretario del PD Matteo Renzi chiede a Di Maio di rinunciare all'immunità parlamentare. Una polemica infinita, alimentata dal terzo capitolo dell'inchiesta denominata Bloody Money. Il nuovo filmato, già acquisito dalla Procura di Napoli, mostra la consegna di una valigetta che nella messa in scena del pentito ex boss della Camorra, infiltrato per fanpage Nunzio Perrella, avrebbe dovuto contenere la prima metà della presunta tangente concordata. La valigetta viene consegnata dopo diversi incontri a Rory Oliviero, ex presidente del Consiglio Comunale di Ercolano, che in un passaggio si definisce il Delfino di Ciriaco e Giuseppe De Mita, millantando una candidatura nel collegio di Avellino, insieme a Biaggio Iacolare, presidente della SMA, la società della regione che si occupa di bonifica e depurazione. Nell'incontro tra i tre si parla di affidamento diretto dello smaltimento di fanghi, reflui e rifiuti, per una cifra base di 195 euro a tonnellata, che con i servizi collaterali arriva a 230 euro a tonnellata, senza gara, precisa Iacolare. Poi Oliviero si intrattiene per pattuire le cifre, per aiutare la campagna elettorale. Ma prima dice di dover fare un passaggio con il vicepresidente, Fulvio Bonavitacola, che per inciso è estraneo all'inchiesta e non risulta indagato. Alla fine avviene la consegna in pieno centro a Napoli, ma non sappiamo se la valigetta è stata aperta. Subito dopo la pubblicazione del video, Biaggio Iacolare ha rassegnato le dimissioni dalla SMA e tutto lascia presupporre che siamo ancora all'inizio. Intanto guardiamo la pagina, Renzi ovviamente va all'attacco dei grillini, Maraggi non commise illeciti su Romeo, il Gip Archivia nomina legittima, lei cancellato un anno di schizzi di fango, a giugno però dovrà affrontare il processo per la promozione di marra parlamentaria, ok dal giudice, ma nel Movimento 5 Stelle non c'è democrazia. Cinema in piazza, via la consigliere del feticismo, punto ai ragazzi dell'America, questo è l'approfondimento, continuiamo a sfogliare la Repubblica e guardiamo le altre pagine che fanno riferimento alla Repubblica di Napoli. Ovviamente l'apertura è dedicata ad appalti e rifiuti, Iacolare lascia la SMA, Caldoro De Luca vinse grazie a lui. L'ex presidente del Consiglio della Regione Campania, Stefano Caldoro, va all'attacco dopo il video di fanpage il presidente si dimette e l'ex governatore appunto accusa. Il commento, tangenti, pampuglie e orologi di Concita Sannino, tutto da leggere che parte dalla parte alta della prima pagina e poi la parte diciamo del fotone centrale dedicata al Comune in ginocchio per i debiti. De Magistris guida ora la protesta a Monte Citorio. Andiamo nelle pagine interne, guardiamo nello specifico il caso appunto della valigetta, tangenti e il presidente si dimette, Stefano Caldoro. Sono gli stessi che mi hanno fatto perdere la Regione. L'intervista parla chiaro, io sconfitto per il patto tra De Luca e De Mita siglato nello studio di Biagio Iacolare a Marano, a chiusura delle liste. E poi ancora, siamo in emergenza, il piano ecoballe è fallita, il governatore ha fatto entrare la politica nella gestione dei rifiuti. L'ex PM mancuso, politica peggiore di quando usamo non noi un infiltrato, lo spaccato restituito, è davvero allarmante, commenta, scenario drammatico che riguarda la permeabilità della pubblica amministrazione. E poi ancora, usare un ex boss come Nunzio Perrella è stato molto efficace, ma al tempo stesso anche davvero pericoloso. Continuiamo a sfogliare Repubblica Napoli, Salvini dribbla Napoli e va a Caserta, la scelta dopo gli incidenti di un anno fa, a Fuorigrotta e Berlusconi da Forfè per motivi di salute, era atteso per venerdì il Cavaliere proprio a Napoli. E poi ancora 9 e 10 aprile quando l'Unione conquistò 23 quartieri e dalla Repubblica, andiamo all'altra pagina, sempre di Repubblica Napoli, debiti post-sisma, 60 milioni bloccati dal pignoramento. Oggi De Magistris guida la protesta a Montecitorio per chiedere il ripianamento dei debiti. Andiamo avanti dalla Repubblica, sfogliamo il mattino, guardiamo la prima pagina, rifiuti appunto di missioni e spese folli, poi ancora Napoli può ricominciare da Troisi, questa è una foto dell'evento di una settimana del plebiscito per i 40 anni della smorfia. Andiamo nelle pagine interne, continuiamo a sfogliare il mattino di Napoli, ancora i rifiuti ovviamente che tengono banco, rifiuti clan non mollano, nuove ditte in odore di mafia, il focus del mattino, stessi nomi del passato, la prefettura interviene. Andiamo avanti. Al voto con l'incubo fake, la slarme dei servizi segreti. Panza sulla campagna elettorale, il rischio degli attacchi dall'estero è davvero concreto, quindi un approfondimento dedicato al tema della relazione, mai citata la Russia ma si parla di tecniche sofisticate e ingente risorse che potrebbero contribuire a sfalsare il voto. Fanno sbarcare criminali, altro che cyberattacchi, Salvini di nuovo in campagna, cioè con il sud e Filling dice, ma dribbla Napoli, va a Caserta perché teme gli scontri. Come ricorderete, Napoli fu messa a fuoco e fiamme l'anno scorso, quando arrivò il leader della Lega. Caserta intanto è causa appunto per l'arrivo di Salvini, raid dei centri sociali contro la sedia. Ristituita la zona rossa, nell'area dove si terrà la manifestazione, rafforzate ovviamente tutte le misure di sicurezza. Ci sarà un corteo alternativo, fascisti e razzisti, non siete i benvenuti, dicono appunto dai centri sociali. Ancora il mattino, alto là di Marina, Berlusconi cancella i comizi, niente tappe a Napoli e Palermo, il CAV apre ai fuoriusciti del Movimento. Cinque stelle, liste dei Democrat che non fanno più gola, lui guarda al Movimento Popolare dei Grillini. E chi dice, prima del voto, il nome del Premier alla giustizia sarà un magistrato o un avvocato. Quindi inizia anche a chiarire il programma di nomina. Nomine Romeo, archiviazione per la Raggi, GIP dice, nessun illecito, abbiamo visto insieme prima lo stesso argomento su Repubblica. Consip, Whatsapp, in guai a Scarfato, un collega, è lui la fonte del fatto. Fuga di notizie, nuove accuso, ma l'ex maggiore del no e sceglie di non rispondere ai PM. Come lo vedete, Scarfato è questa persona che appunto è fotografata, che compare nell'articolo. Tra Turchia e Siria, è l'ora delle bombe, a Guta 200 morti, Erdogan bombarda l'enclave kurda, Damasco, raid governativo ed è di nuovo, vedete, il dramma, la strage dei civili. Miliziani schierati con Assad nella provincia di Ancara, risponde con l'artiglieria. I corpi dei siriani uccisi li vedete appunto ancora una volta in pagina. In attacchi aereo e bombardamenti da parte di forze governative in un ospedale sono tutti quanti a Guta. Dal mattino nazionale andiamo a guardare il mattino di Napoli, il caso di Luca che scuote il PD, scomparsi in mestico, adesso c'è la pista dei narcos. L'ipotesi, l'auto di Russo, localizzata nel viaggio verso una città legata al mondo dei cartelli della droga, ma la notizia buona è quello che il governo messicano finalmente ha deciso di intervenire in questo caso. Nelle case nuove di Napoli, periferia nord di Napoli e allarme rosso, tutti cercano padre, figlio e nipote, scomparsi nel nulla il 31 gennaio in Messico. La moglie continua a lanciare disperati appelli perché tornino a casa. Finalmente ieri Lopez, il segretario appunto del governo messicano, ha deciso di intervenire e ha detto adesso controlleremo anche la pista, quella potenziale dei possibili poliziotti corrotti. Roberto Lopez, vice governatore di Gialisco, stato occidentale del Messico, ha annunciato che la procura generale della Repubblica sta esaminando la possibilità di assumere il caso dei tre napoletani scomparsi lo scorso 31 gennaio. I tre sarebbero spariti proprio in una zona dove è molto attiva la criminalità organizzata. Questa misura del procuratore generale attraverso la Seido, la procura generale specializzata in indagini sul crimine organizzato, viene presa solitamente per casi di altro profilo e di importante rilevanza mediatica e presuppone indagini molto più approfondite. Il vice governatore ha sottolineato di essere in contatto con l'ambasciata italiana in Messico e anche con la Farnesina. Lopez non è voluto entrare in ulteriori dettagli sulle indagini per non pregiudicare la segretezza del processo e ha detto che ora non è contemplata la possibilità che ci sia stato un intervento della Polizia Municipale Locale, ma ha aggiunto che si sta valutando anche questa ipotesi. Si può dunque parlare di una piccola svolta in uno dei casi di sparizione internazionale più misteriosi degli ultimi anni. Dopo le sollecitazioni della famiglia e anche della Farnesina, si sta comunque valutando un eventuale coinvolgimento delle forze dell'ordine che terrebbero, così come sostenuto dai parenti, i tre partenopei chiusi in carcere. Per la prima volta, dopo giorni di silenzio, le autorità messicane hanno finalmente deciso di prendere a cuore il caso dei napoletani spariti. Finalmente si accende un piccolo barlume di speranza per i familiari di Raffaele, Antonio e Vincenzo. Questo è il punto sul caso dei napoletani scomparsi in Messico. Intanto guardiamo questa foto dedicata alla cultura. Sfida al degrado, rinasce Santa Luciella, l'interno della chiesa di Santa Luciella, oggetto di un intervento di restauro. E respiriamo arte il progetto che appunto mira a recuperare e rilanciare l'arte più bella del centro antico di Napoli. Intanto il caso De Luca, agita ai democratici. Ora evitiamo veleni e polemiche. Ederoclite, Vincenzo è un uomo delle istituzioni. Basta butad fuori dalle righe. Quindi c'è questo problema che ovviamente dal caso giudiziario alla vigilia, soprattutto delle parlamentarie, entra di petto all'interno degli equilibri del popolo del centro-sinistra dei Dem. Carfagna, il governatore nel mirino sulle cuballe, non ha fatto nulla, Berlusconi non sarà venerdì a Napoli, visita sconsigliata dallo staff medico. Ancora politica, forza nuova sfida ai Dem, domenica il comizio in città verso il voto. Troppo degrado, il centro storico è abbandonato. La denuncia del titolare di un nuoto bistrò, a Chiaia torna la provesta per la movida, quella dei baretti. Musica a tutto volume e caos, insorge la zona universitaria. Un problema che non trova pace, è quello dei baretti di Via Chiaia, tra Vomero con Via Aniello e Via Chiaia. Una vera e propria rivolta di residenti e commercianti. Comune, meno consiglieri, ma i costi crescono. Guardiamo insieme la tabella delle spese di Palazzo Comunale. Nel 2016 ci sono 40, però la spesa per gli stipendi è stata quasi di 900 mila euro. Quindi questi, in sintesi, i soldi spesi, guardiamo insieme i conti, che compaiono in questa tabella molto chiaro. Guardiamone soltanto una. Spese per il funzionamento del Consiglio, esercizio 2015, oltre 620 mila euro, 558 nel 2016, 745 mila nel 2017. Quindi vedete le percentuali a spalla che fanno capire di quanto si cresce. Prevenzione gratuita anti-cancro per chi vive nelle zone a rischio da fuori Grottamiano. Cinque quartieri dove si ammali di più e c'è un programma dell'ASL dedicato alla salute dei cittadini. Trasporti, la vergogna intanto dell'eterna emergenza sul tavolo dei magistri sono dei problemi maggiormente difficili da superare, quello delle infrastrutture, soprattutto quello dei trasporti pubblici. Niente accordo al CIS, list separato e vince Grimaldi, maggioranza alla governance, uscente il Presidente, no la patrimonio di tutti i soci. Quindi ieri l'economia di uno degli indotti nella zona mandamentale maggiormente importante, gli equilibri del CIS, sono stati ridefiniti. Il bandito ucciso non sparò contro il gioielliere. Questa è la notizia di ieri. Sul caso del ragazzo Raffaele, Raffaele Ottaiano, di Caivano, giovanissimo, andò all'assalto di una gioielleria a fratta maggiore. Indossava una maschera di un personaggio Hulk. Fu sparato dal proprietario, che scese dal piano di sopra, mentre seguiva con la videosorveglianza quanto accadeva all'interno dell'esercizio. Una dinamica da ricostruire, ma pare proprio che il rapinatore non abbia sparato. Quindi la posizione del gioielliere si potrebbe aggravare ulteriormente. Un elemento importante emerge dalle indagini sulla morte di Raffaele Ottaiano, un rapinatore di 26 anni, ucciso lo scorso 10 febbraio durante una rapina in una gioielleria di fratta maggiore in provincia di Napoli, che stava per mettere assegno insieme a quattro complici, tutti assicurati alla giustizia. Stando a quanto si apprende dalle indagini condotte dalla procura di Napoli Nord, Ottaiano non avrebbe esploso nessun colpo di pistola né durante il tentativo di rapina, né nei successivi e contati istanti. Nel frattempo Luigi Corcione, 32 anni, titolare della gioielleria, che dopo aver assistito alla rapina dai monitor delle telecamere di sorveglianza ed era sceso in strada sparando in direzione del rapinatore uccidendolo, è ancora indagato per omicidio colposo derivante dall'eccesso di legittima difesa. Il suo legale aveva fatto sapere che il gioielliere aveva sparato data l'imminente situazione di pericolo, ma il nuovo elemento venuto fuori dalle indagini potrebbe cambiare le carte in tavola. Verosimilmente non avrebbe sparato neppure Luigi Lauro, uno dei complici di Ottaiano, anche gli armato, preso mentre tenta la fuga grazie all'intervento di un coraggioso ispettore di polizia del locale commissariato. Lo stesso Lauro, secondo quanto emerso, avrebbe puntato la pistola che aveva in mano contro il poliziotto, il quale è comunque intervenuto. Ma restiamo a Caivano, parte centrale della pagina, l'altro orco del Parco Verde, quello degli orrori. Otto anni per gli abusi su due fratellini. Uno ha subito danni irreversibili, l'uomo non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati. Nel 2008 aveva iniziato a molestare i figli dei vicini, che avevano 9 e 12 anni. La procura voleva una pena più lieve. Un'altra storia terribile. Picchia la maestra della figlia dopo un rimprovero e successo a Succivo. Mamma di una piccola di 4 anni, aizzata dal marito, offeso, si avventa contro l'insegnante. Ancora violenza tra i banchi. Il ventenne ferito si costituisce uno del branco e è stato accoltellato per motivi che restano oscuri fuori da una discoteca a Pozzuoli. Sabato. Da Napoli ci spostiamo sulla pagina di Avellino, guardiamo in Irpina cosa accade. Lavoro irregolare, un contratto su due. I dati dell'ispettorato, l'edilizia e i trasporti. Settori dove l'illegalità è più diffusa. Va meglio il commercio. Sanzionate 6 imprese su 10, oltre 1000 controlli. La CGL, così intanto però, si alimenta il precariato. Bebisquillo all'incontro. Il consulente intanto patteggia la sentenza, due anni inflitti a Roselli. E ancora tempi stretti per la seconda vita del Gesualdo, si continua a lavorare per poter appunto riaprire il sipario, rialzare il sipario del teatro di Carlo Gesualdo. Malato di tubercolosi, intanto evade dall'ospedale. Un operaio rumeno, ultra sessantenne, residente da molti anni a Montemiletto, ha deciso di lasciare l'ospedale. Ovviamente dovrà passare qualche guaio, perché ovviamente è tenuto sotto stretto controllo. Moscati, allarme sangue, intanto servono mille sacche, raccorta straordinaria dell'Avis, sabato e domenica. Ma da Avellino ci spostiamo a Benevento, guardiamo cosa succede nel Sagno. Benza si riparte con 800 pasti. Il servizio al via, dopo un anno, incontro con i genitori, addio all'opzione panino libero, messo ovviamente tra caporali. Oggi primi piatti a tavola delle scuole, Lati assorbe 31 lavoratori su 39, con più adesioni assumeremo stavolta davvero tutti. Ma guardiamo anche questo caso di cronaca, molestie sessuali sull'allieva. Il prof ha rimediato quattro anni, il docente ha sempre negato intanto gli abusi. Vediamo. Quattro anni e quattro mesi di reclusione sono stati inflitti ad un professore della Valle Telesina, nel Sannio, accusato di molestie sessuali e i danni di una studentessa. La condanna è stata decisa al termine del rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Benevento. Per il professore anche l'interdizione dei pubblici uffici per cinque anni, il pagamento di una provisionale di 5.000 euro in favore della ragazza. Epilogo è di primo grado di una vicenda che risale al marzo 2016, quando l'imputato insegnava informatica presso un istituto tecnico di Circello. Secondo gli inquirenti, avrebbe rivolto le sue attenzioni ad una diciassettenne, che risiede in un centro fortorino e frequentava l'ultimo anno. Le avrebbe palpeggiato le gambe, il sedere ed il seno. L'avrebbe fatto in più occasioni nel corso di una settimana, mentre lei era in aula. Dunque in presenza anche dei compagni di classe della giovane. Due di loro avevano confermato la circostanza, esclusa invece dagli altri. Era stata la segnalazione della dirigente dell'istituto, che aveva raccolto il racconto della studentessa, ad innescare l'attività investigativa dei carabinieri, poi sfociata in una richiesta di rimia a giudizio. Intanto abbiamo già aperto la pagina dedicata a Caserta. Rischio scontri. La città è blindata per l'arrivo di Salvini e poi la bambina piange. La maestra viene picchiata. Su Civo, denunciati i genitori, l'ira della presida è un'offesa a tutta la scuola. Castel Volturno sarà un esempio per la campagna, lo ha detto il ministro Minniti. Al governo siamo consapevoli che i progetti finanziati sono poco rispetto alle criticità di Castel Volturno. Tuttavia con questa firma abbiamo gettato le basi per un ottimo inizio. Quindi si punta a Risanale, Castel Volturno, la cosiddetta area della fascia domiziana. E poi la doppia trincea del governatore, pressing dal PD regionale, a bassi toni, ma lui annuncia giovedì un altro messaggio. Strategia d'attacco dopo la bufera mediatica, ma il partito è prudente, nessun sostegno pubblico al governatore. Quindi davvero lasciato solo Vincenzo De Luca. Personaggio 1, Piero, grinta e cautela, campagna d'astacoli. Il racconto di Aldolfo Pappalardo, il personaggio 2, l'altro figlio di De Luca, Roberto, resta blindato, nessun dietrofront, ha dato le dimissioni come assessore al bilancio. E ancora, un caffè, questa è una storia molto bella che è accaduta ieri a Battipaia. Un caffè e un grattino da 20 euro vince 5 milioni in un bar a Battipaia. È successo, appunto, come dicevo ieri, in provincia di Salerno. Il sogno un po' di tutti. Diele, il PM chiede 8 anni, risarcimento per Ilaria. Linea dura del sostituto Cosentino, i legali da parte civile in udienza, 500 mila euro ai familiari della vittima, quindi della donna morta. Ma dall'informazione cartacea ci spostiamo direttamente su quella in tempo reale, quella via web. Guardiamo insieme il sito, il portale, 8pagine.it, rapina in una casa, frasso telesino, terrore per una famiglia, notizia del comparto cronaca di Benevento, banditi incappucciati, paure e feriti, allarme nel sagno. È successo ieri notte e secondo una prima ancora sommaria ricostruzione, più persone incappucciate, armate, hanno fatto irruzione in una casa. Sono stati momenti di autentica e concitata paura per le vittime che sarebbero state anche picchiate. Bottino da quantificare, ma sicuramente hanno portato via molti oggetti di valore all'interno della casa e insomma Alessandro Fallarino ci aggiornerà nelle prossime ore su quanto accade appunto a frasso telesino. Ronde, furti e spari e poi ancora città pronta a sbocciare con Benevento città in fiore è presentato l'evento con l'omonimo concorso alla sua prima edizione. Andiamo a Napoli. Vediamo cosa succede a Napoli città e in provincia. I ultimi aggiornamenti sicuramente riguarderanno anche il caso dei ragazzi scusatemi dei napoletani scomparsi in Messico. Rifiuti tombati nel stagno intanto viene archiviata l'indagine. Napoletani scomparsi finalmente parla il governo messicano. Accoltellato in via foria è stato identificato anche il quarto componente del branco. Foto per gioco diventa un fake ma quale banda dei quartieri il caso si era parlato di una paurosa baby gang invece era una fotogioco pubblicata con incoscienza da uno di loro e scambiata pensate anche dalla stampa internazionale per la banda della parrucchiella quindi una banda reale di bambini spietati che in realtà come hanno raccontato a Giulio Golia delle Iene hanno preso anche di santa ragione per questa imprudenza. E poi ancora andiamo a Salerno. i furti e spari nella notte i residenti fanno alle ronde omicidio di Lillo il PM intanto chiede otto anni di carcere per Diele l'attore di 1992 e 1993 travolse e uccise la 48enne salernitana da Salerno ci spostiamo ad Avellino guardiamo le ultime nuove ad Avellino mio zio è stato separato alla schiena volevano ucciderlo ragazzino pestato brutalmente dal branco sono quattro gli indagati e vanno avanti le indagini l'inchiesta dei rifiuti sono il delfino di Demita sono le parole che avrebbe usato Iacolare in questa registrazione effettuata da Fanpage ancora da Avellino guardiamo la sezione sport ci sono grosse novità in casa Avellino come avete visto c'è un cambio societario di quote societarie Novellino intanto sorride inizia a svuotarsi l'infermeria e poi ancora sotto col Novara il punto sugli infortunati Tacone l'Avellino all'Italpol vigilanza esco a testa alta il presidente a 696 tv 8 channel intesa formale per la cessione della maggioranza delle quote e con questa notizia che riguarda la serie B l'Avellino calcio vi rimando al prossimo appuntamento con l'informazione che alle 11 in punto con gli aggiornamenti in tempo reale dal touch